Io penso di aver sfruttato fondantemente la cortesia e la preparazione, la straordinaria mandatica che vi ringrazio e che potete continuare ad incontrare in questi giorni di Moto Days. Chiedo al Presidente Mauro Mannocchi una conclusione di questo primo atto ufficiale di presentazione di questa quinta edizione di Moto Days. Una settimana fa, lo abbiamo detto, un'edizione di resistenza e di reazione a un momento difficile. Meglio di così, credo, non si potesse iniziare per la passione del pubblico, per la presenza delle grandi stelle e per uno spazio espositivo che veramente copre padiglioni e padiglioni con novità, con spunti di interesse di ogni tipo. Noi siamo coscienti che il momento finanziario, economico che sta attraversando il Paese, non soltanto al nostro Paese, è veramente drammatico. Siamo in una fase forte di recessione. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo stretto veramente i bulloni. Io devo ringraziare tutti